Bassano la grande incompiuta. Chi lo dice? Lo dicono i fatti, lo dicono le cose non fatte e lo dice Tommaso Mauro, giovane architetto, autore di un dettagliato articolo pubblicato sul giornale dell'architettura. Tra progetti incompiuti o arenati e nonostante la sua collocazione strategica, scrive Mauro, la città stenta a ritagliarsi un ruolo nello scacchiere veneto. Il filo conduttore della sua analisi è quello dell'architettura, andando a mettere il dito nella piaga delle opere promesse alla città e rimaste appunto solo promesse. Alcuni esempi? Il polo museale Santa Chiara, un cratere che l'amministrazione ha provato a riempire con l'asteroide del Genius Center che si è schiantato contro opinione pubblica e fattibilità. Fermo anche l'ascensore di Prato Santa Caterina, così come l'accordo pubblico privato per la riqualificazione dell'ex macello e poi il Piano Mar, il caso Baxipengo, insomma un elenco pauroso. Ma perché appunto l'ottava città del Veneto soffre di questa costante sindrome da incompletezza? La chiave di interpretazione dell'architetto Mauro è interessante. A Bassano dice negli ultimi anni è mancata una visione progettuale capace di valorizzare il tessuto economico e sociale del territorio con un'evidente difficoltà di dialogo con i comuni limitrofi. Intanto da via Matteotti pubblicano un comunicato dove l'amministrazione annuncia lo sblocco di diversi progetti dalla manutenzione del ponte della Vittoria alla ristrutturazione dell'ex ospedale passando per la sistemazione di piazzale Cadorna, del tetto del museo civico e di palazzo Vittorelli. Un bel po' di lavori ma... Diciamo che presentare sostanzialmente a sei mesi, che in realtà vuol dire tre mesi di amministrazione effettiva, dalla fine del mandato un teorico libro dei sogni dopo cinque anni di incubo sul Bassante Opre Pubblica, perché questo è quello che ha vissuto la città di Bassano e Grappa, insomma oltre che poco serio, è l'ennesima presa in giro nei confronti dei cittadini. Molte di quelle opere non hanno certezza di copertura finanziaria, sono messe in là negli anni, sono delle previsioni che questa amministrazione non sarà in grado di realizzare. Dunque torniamo al punto di partenza. Bassano, la grande incompiuta. Appunto, tutto fermo ancora al punto di partenza.